Da buona ultima arrivo anch'io con un tag molto popolare qui su youtube che è stato proposto anni fa ma che recentemente ha avuto un ritorno di fiamma, io non l'avevo mai fatto, si tratta del I dare you book tag. Se mi vedete guardare sotto mentre mi parlo è perché sotto ho il tablet con le domande che sto guardando da un altro video, quindi questa è la ragione per cui delle volte non starò guardando in camera. Allora partiamo subito con le domande perché sono tantissime, la prima domanda è il libro che hai avuto per più tempo in libreria? Io come libro che ho avuto per più tempo in libreria penso che sia Anna dai Tetti Verdi che è un libro molto vecchio, guardate com'è anche malconcio e addirittura è senza ISBN, risale alla mia preadolescenza, è un regalo di mia nonna, mi ricordo che mia nonna quando ero ragazzina mi portava nella cartoleria del suo paese e lì mi comprava un libro perché era l'unica cosa che io desiderassi come regalo, questo è un libro che è stato letto, riletto e straletto più volte, secondo me è un libro che anche gli adulti possono apprezzare e che io ho moltissimo amato, come potete vedere le pagine sono ingiallite anche all'interno, è davvero un libro vecchio ed è un libro che io ho moltissimo amato e sono felice di averlo letto e che sia un ricordo della mia cara nonna Che cosa stai leggendo, cosa hai appena finito di leggere, che cosa leggerai? Allora siccome voi vedrete il video tra un paio di giorni rispetto a quando io lo sto girando, diciamo che vado un po' avanti nel tempo e il libro che ho appena finito di leggere è Cose che si portano in viaggio, un letto sul reader, dietro consiglio di Martina del canale Ima in the Books questo l'ho preso in prestito dalla biblioteca digitale di Milano, un libro davvero stupendo di cui vi parlerò sicuramente al più presto e che ne è valsa veramente la pena, grazie Martina per averne parlato lettura in corso nel momento in cui voi vedrete questo video è Lo schiaffo di Zolcasso e finalmente ve ne potrò parlare ovviamente nel momento in cui io lo sto girando non l'ho ancora cominciato ma prevedendo di finire questo entro oggi perché è un libro breve e si legge anche in maniera molto scorrevole questo sarà sicuramente già cominciato nel momento in cui vedrete questo video lettura successiva da obbligo per Indie Books, sfida all'Ok Dakar della casa editrice Neo in cui vi parlerò però alla fine del mese e quindi vi rimando a domenica prossima un libro che tutti hanno amato ma che tu odi, io non posso dire di odiarlo nel vero senso del termine ma è un libro che a me non è piaciuto e di cui io non riesco a comprendere l'entusiasmo generale si tratta di la versione di Barney di Mordecai Richler di cui io ho detestato il protagonista, lo avrei investito con un carro armato e quando tutti dicevano grande amore, grande amore, quello secondo me non era amore ma era una semplice forma di egoismo sono sicura che tutti voi lo avete amato, io non posso dire che l'ho odiato ma è un libro del quale io non comprendo l'entusiasmo per me è stato un tre stelle, vabbè, anche il film per me sì vabbè un libro che dici sempre che leggerai e che boh forse non leggerai mai allora io vi faccio vedere un libro che transita da tantissimo tempo nella mia libreria che avevo cercato dappertutto e che poi quando l'ho trovato finalmente ancora non mi sono decisa a leggerlo non so sarà 7-8 anni che questo libro vegeta nella mia libreria e tutti gli anni mi prometto che questo sarà l'anno giusto e invece l'anno giusto non viene mai, si tratta di Passaggio a Tehran di Vita Saquil West che intraprese questo viaggio se non sbaglio negli anni 30 quindi una donna molto coraggiosa perché viaggiare da donna all'epoca non doveva essere facile soprattutto in terre così sconosciute e non è certo come adesso che uno si arrangia da solo prenotando su internet quindi sicuramente un testo affascinante, l'avevo cercato dappertutto perché sembra che sia fuori catalogo quando finalmente l'ho avuto per le mani e l'ho lasciato a prendere la polvere io non so se mai lo leggerò, non vi dico niente perché è inutile che io dica lo leggerò, lo leggerò e poi alla fine resta qua ad aspettare il suo momento Un libro che ti stai tenendo per la pensione? Io devo dire che tra i miei innumerevoli non letti non c'è niente che abbia lo specifico obiettivo di essere tenuto per la pensione però io spero che per l'epoca in cui sarò in pensione avrò il tempo finalmente di dedicarmi alla filosofia io non ho fatto il liceo, ho fatto il periodo aziendale quindi filosofia non l'ho studiata e mi piacerebbe all'epoca quando avrò tanto tempo magari iscrivermi a dei corsi per il tempo libero e finalmente scoprire delle cose che non so e che mi piacerebbe approfondire Leggi subito l'ultima pagina dei romanzi o la tieni per la fine? Allora direi subito no, però a volte quando leggo dei romanzi che mi causano un'ansia particolare mi può capitare di andare verso il fondo e di vedere come si metteranno le cose cerco di non rovinarmi il finale però in qualche modo a volte sì, cerco di capire che piega prenderanno le cose so che non si dovrebbe fare però a volte ci sono dei romanzi che mi angosciano talmente tanto che voglio sapere se i personaggi se la caveranno oppure no Prefazione, postfazione, note? Sì, no? Allora io una volta stavo leggendo un romanzo, anzi avevo cominciato a leggere un romanzo di Agatha Christie e nella prefazione allegramente svelavano l'assassino da allora io le prefazioni non le leggo più e mi capita a volte invece di leggerle successivamente alla fine del libro come la stessa cosa vale per la postfazione se il libro mi è piaciuto molto devo dire che a volte quando i libri mi sono piaciuti tanto mi soffermo con il libro in mano addirittura a leggere l'elenco dei testi che ha pubblicato la casa editrice giusto per tenermi ancora il libro tra le mani quindi prefazione e postfazione solo se il libro mi è piaciuto le note dipende perché a volte sono note utili a volte sono delle note che mette l'autore addirittura per far pensare a chi sta scrivendo quel libro anche per esempio nella versione di Barney ci sono delle note qua e là che sono delle note fittizie perché fanno pensare che il libro sia stato in realtà che sia una storia vera in cui il compilatore di questa storia ci metta delle sue osservazioni con quale personaggio cambieresti la tua vita? allora tutti rispondono con nessuno invece io andrò controcorrente e devo dire che a volte mi piacerebbe prendere il posto della Sanseverina del romanzo La Certosa di Parma che è sicuramente una donna antelitteram per la sua epoca brillante, intelligente e una donna di potere e quindi a me piacerebbe avere il carattere della Sanseverina anche nella mia vita di tutti i giorni quindi hai un libro che ti ricorda un momento specifico? beh sicuramente sono tanti ma nello specifico vorrei parlare di Tina che è la biografia romanzata di Tina Modotti l'avevo trovato dentro una casa di vacanze in cui ero stata in Sardegna era una specie di bed and breakfast ma dove i proprietari d'inverno abitavano per davvero e quindi c'era una folta libreria e io avevo trovato questo testo di Cacucci e sapevo che dopo la vacanza estiva sarei andata a Torino a vedere la mostra di Tina Modotti che era una fotografa straordinaria e quindi trovandomi quel libro tra le mani me lo portai in spiaggia con tutta cura cercando di non rovinarlo per leggermi la biografia della fotografa appunto e quindi io ho un ricordo particolare di una fotografa messicana o comunque vissuta anche negli Stati Uniti eccetera però legato ad una vacanza al mare in Sardegna e alla splendida mostra che poi ho visitato a Torino in quell'anno e quindi quel libro è indissolubilmente legato a quella vacanza in Sardegna che tra l'altro io neanche ci volevo tanto andare in Sardegna invece la vacanza era stata meglio di quanto io mi aspettassi un libro avuto in modo strano allora qualche anno fa mi è capitato una volta di partecipare a una specie di book swap di scambio libri clandestino un'amica mi aveva invitata mi aveva detto qual era il tema e di portare un libro che fosse a tema e poi ci eravamo trovati un po' di nascosto eravamo passati attraverso il portone in casa di questa ragazza ed eravamo un bel gruppetto mi ricordo che avevo anche portato ognuno di noi aveva portato qualcosa da mangiare o da bere avevamo fatto una specie di aperitivo e poi ognuno aveva parlato del libro che aveva portato il tema era la musica e io mi ero portata a casa il tempo è un bastardo di Jennifer Egan io non so se poi da quella volta avessero smesso di fare gli scambi libri o se non mi avessero più invitato perché purtroppo il libro che avevo portato io l'avevo spiegato così male che non l'ha preso su nessuno e mi è spiaciuto un sacco però io in quell'occasione mi sono portata a casa questo che ho sempre detto lo voglio tanto leggere e come tanti altri invece sta ancora aspettando il suo turno qui nella mia libreria dei non letti e spero che un giorno arriverà il suo momento devo dire che sono tanti quei libri che dico sempre li leggerò e poi non li leggerò mai vedi alla domanda precedente un libro regalato in un'occasione particolare allora io come questa domanda l'ho intesa come un libro ricevuto in regalo e un libro che ho ricevuto per un'occasione particolare è i Promessi Sposi che vedete qui con il simbolo del comune di Milano io sono sposata in comune e in occasione del matrimonio il comune di Milano ci ha regalato una copia dei Promessi Sposi in edizione Epli e con appunto il simbolo del comune di Milano ma da sé che io comunque non l'ho mai letto ho letto ovviamente i pezzi che si leggono a scuola il libro comunque staziona qui nella mia libreria ed è un bellissimo ricordo del giorno delle mie nozze domanda 12 libri d'obbligo un amore postumo e un odio senza riserve come amore postumo potrei indicare Calvino quando io ero alle medie mi ricordo forse in seconda media ci avevano dato da leggere come lettura di classe Marco Valdo e io lo avevo letto tutto per conto mio ed ero rimasta veramente spaesata e anche abbastanza angosciata da questi racconti in cui il povero Marco Valdo ne passava di tutti i colori e mentre i miei compagni li vedevano in maniera anche abbastanza comica e vedevano questa sfortuna che si abbatteva sul poveretto io rimanevo angosciatissima da quest'uomo che non riusciva a sottrarsi dal suo destino di miseria e di sfortuna e che non si sapeva neanche come facesse a tirare avanti ed è la ragione per la quale io facevo una fatica terribile a leggerlo ed è la stessa ragione per la quale mentre molti si divertono con fantozzi io resto angosciatissima da questo pover uomo che non riesce a sottrarsi a un suo destino di miseria e di umiliazione e credo che non sia un libro adatto secondo me a dei ragazzini di 12 anni perché come molti miei compagni l'avevano trovato comico non l'avevano capito e io stessa pur non avendolo trovato comico non avevo la forza morale sufficiente a sopportare le disgrazie di questo povero uomo penso che invece letto da adulta sia sicuramente un capolavoro della letteratura italiana non faccio fatica a dire che Calvino è uno dei nostri più grandi vanti e tutti i libri che ho letto successivamente suoi li ho trovati meravigliosi invece per quanto riguarda l'odio senza riserve io non ce la faccio con Svivo mi spiace ho provato più e più volte a leggere La coscienza di Zeno mi fermo sempre, mi annoia, non mi diverte lui lo odio e non ce la faccio so che questo potrebbe rientrare anche nella domanda piaciuto a tutti tranne a te è così, purtroppo io non ce la faccio con Svevo lui è proprio al di là della mia sopportazione libri nuovi o di seconda mano? beh se avete visto il mio ultimo video in cui vi ho fatto vedere quell'edizione vecchia vecchia di Dio di Illusioni saprete che per me non fa differenza nuovi, usati, strausati, scambiati, regalati pescati dai mercatini, dai cestoni dai book crossing oppure comprati in tonsi in libreria o alle fiere per me è lo stesso cioè i libri sono sempre libri hai mai letto Dan Brown? no, non mi è mai capitato non ho mai avuto l'interesse e non credo nemmeno che lo leggerò mai è vero mai dire mai però è un tipo di autore che non mi interessa non sono libri per me un film migliore del libro da cui è stato tratto beh secondo me Chiamami col tuo nome di Andrea Siman e il film di Guadagnino secondo me il film è superiore al romanzo il romanzo è bello però secondo me il film riesce a trarre la parte migliore perché poi il romanzo se non l'avete visto o non l'avete ancora letto continua dopo la fine del film e vediamo la vita dei personaggi come si evolve successivamente quello per me è stato un trascinamento noiosissimo non mi interessava in più nella parte del romanzo c'è la descrizione infinita di una cena che è noiosissima anche quella per il lettore mentre nel film viene smazzata in 448 e quindi sicuramente il film trae dal libro le parti migliori ha tra l'altro una scelta fotografica meravigliosa e quindi io ho molto amato il film il libro è bello ma il film secondo me è molto meglio una lettura che ti ha fatto venire fame io non so se voi avete letto i romanzi di Nero Wolf ma lui ha l'abitudine di invitare a cena le persone coinvolte nel caso in cui lui sta indagando e spesso per chiarire le cose gli piace proprio offrire queste cene in cui insieme al suo cuoco prepara delle pietanze meravigliose tutte le volte che ho letto un suo romanzo avevo proprio l'anguorino allo stomaco che nasce dai romanzi dove ci sono queste pietanze fantastiche che uno nella vita probabilmente non assaggerà mai ti fidi dei consigli che ricevi? e c'è qualcuno di cui ti fidi particolarmente beh ci sono sicuramente le mie amiche qui su booktube e anche alcune amiche nella vita reale ma poi senz'altro un posto d'onore ce l'hanno i miei amici di Goodreads che conosco dai tempi di Anobi e quindi veramente da oltre dieci anni e grazie ai quali ho letto dei romanzi meravigliosi e che quindi sono un po' la mia fonte di ispirazione per scavare nella letteratura anche non di ultima uscita e trovare delle perle fantastiche con loro spesso organizziamo dei giochetti cioè delle classifiche dei libri che ci sono piaciuti di più oppure dei tornei tra opere che arrivano da una stessa area geografica e poi magari li leggiamo anche insieme e quindi traggo dalle loro liste degli spunti interessantissimi poi se decidiamo di leggerli insieme è ancora a maggior ragione un ottimo spunto a trovare dei testi che altrimenti io non avrei scovato da sola Un libro fuori dalla tua comfort zone che però hai amato io è difficile che riesca ad avventurarmi con soddisfazione fuori dalla mia comfort zone però se mi conoscete abbastanza bene sapete che non leggo i romanzi horror perché poi non dormo la notte ora magari non è propriamente un horror però abbiamo sempre vissuto nel castello è tra le mie letture quello che ci si avvicina di più ed è un romanzo che ho amato tantissimo che ancora mi ricordo e che consiglio praticamente sempre a tutti e mi entusiasmo quando qualcuno lo sta leggendo quindi diciamo che questo è tra tutti quelli che ho letto più fuori dalla mia area di comfort quello che mi è piaciuto di più un libro che hai regalato più spesso allora io ho un libro o comunque un autore che regalo tantissimo è Mohan perché è un autore poco conosciuto in generale anche da chi ama leggere ma che non è un lettore super appassionato diciamo che qui di fianco a me ho preso il velo dipinto come emblema della sua produzione credo che sia questo uno dei libri che ho regalato di più ad amici che amano leggere ma che non lo conoscevano e quindi sì devo dire che il velo dipinto non so ne avrò regalato almeno una decina di copie se non conosco qualcuno che però penso ami leggere gli regalo il velo dipinto ultima domanda un libro che hai portato con te più volte sapete che non lo so cioè una cosa che viene sempre con me ovviamente è il reader da quando lo possiedo e possiedo dei reader dal 2011 per cui veramente da tanti tanti anni però non saprei dirvi qual è il libro che ho portato con me più spesso perché se mi porto dei libri in viaggio di solito tendo a leggerli e magari sì ci sono stati dei libri che sono venuti con me nei traslochi ma devo dire che fortunatamente io non sono una traslocatrice seriale e quindi ho fatto 3-4 traslochi in vita mia e basta così quindi insomma di libri che sono venuti con me più spesso non ne ho uno in particolare quanto meno il tag finisce qui se non lo avete ancora fatto sentitevi liberi di rifarlo se lo avete fatto lasciatemi giù nei commenti quali sono le vostre risposte o magari il link al vostro video se non l'ho visto mi farà piacere venire a guardarlo e magari fatemi sapere la vostra su alcune di queste domande se appunto non avete un canale e c'è qualcosa che vi stuzzica in particolare noi ci rivediamo come detto domenica per Indie Books e nel frattempo buona lettura a tutti